Cara mamma, dici sempre che giocare troppo ai videogame mi fa male. Forse hai ragione. Sei lenta? Aio! Ehi, sta' attento, batto imbecille! Fallo per linguaggio troppo colorito! Come credi, zomboide? Che me ne faccio dell'attività fisica se posso giocare a video bat 3D? Olografia, mega amplificazione del suono e odori verosimili a emanazione reale! Alitosi di drago al barbecue! Hai un videogioco a scorreggione 3D, allora? Scommetto che riesco a finirla! Giù le manacce, meggalletto! È soltanto per noi senni smaliani! Ehi, battipanni, vuoi vedere il nostro gioco a 3D? Ma certo! Ora vuoi dirmi che vuoi battu un barbù? Goal! Un tantino troppo 3D per i miei gusti! I tuoi gol spaccano, Gretchen! Già, e la pancia di Bud Squad conferma! Sorpresa! Sì, visto che vi piace tanto l'insulso ciocotipa schiappa! Ho messo insieme un po' di beat, bite e bulloni! Vige il caos a Camp Pixelbottom, pura poesia in formato digitale! Forte! Ok, prima io! Voglio provare anch'io! Sono andati fuori di testa! Basta! Facciamo le cose per bene e in ordine! Tana, ora tocca a me! Fantastico! Grazioso! Capisci che è un successo quando sono troppo contenti per ringraziarti! Ora dovete superare i tre livelli di Camp Pixelbottom per vincere! Ma dovete fare attenzione a Squat Boss in terzo? L'ifello suo attacco speciale tuono, Squat fa molto male! In bocca al lupo! Ok! Che forza! Attenso al fungo roma! Avanza! Supplica quanto vuoi, Maggie illuso! Tanto non ci giochi al mio GameBot! Ehi! Shh! Maggie è vicinissimo a battere il record! Non ci credo! Ora anche i Botton Barbosi hanno un videogioco! E nessuno per i Botton Barbosi! E a chi serve quel vecchio videogioco? Io il mio Super GameBot! Così, così, sì! E insomma, Maggie... Vogliamo giocare anche noi! Un secondo! Ho superato i primi due livelli, ma il terzo è difficile! Squat Boss sta distruggendo il campeggio! Ora vado alla casetta di Sawyer! La mia vendetta sarà tremenda! Almeno hai preso i punti bonus! Guarda e impara adesso! Andiamo, Gretz! Mi basta un'altra partita e l'ho fatto! Posso giocare mentre litigate? Non esiste, ragazzo! No, non esiste! Dai, Gretz! L'avete rotto prima che potessi giocarci! Un attimo! Come mai siete tutti pixelati? Ragazzi! Ora siamo dentro il DJ il caos a Cat Pixelbottom! Wow! Sawyer ha superato se stesso! Questo gioco è una bomba! Qual è il fungo rana del primo livello? Come stai, piccolino? Squirt, fermo! No! Che è successo? Hai appena perso una delle tue vite! Cosa? Rilassati, ne hai ancora due! Solo due vite? E che succede se le perdo tutte quante? Game over? Ma non preoccuparti, non può perdere Mekki, il mago dei videogiochi! Certo che può e l'abbiamo appena visto! Ma rimarremo intrappolati qui per sempre! C'è solo un modo per scoprirlo! Dobbiamo finire il gioco! Guardate qui! Tocco il coniglio pipistrello! E ci potenzio! Prendiamo i punti bonus e passiamo di livello! Super Gabriella! Super nausea! Sembra proprio la nostra mensa! Solamente più pixelata, ecco! Sì, ma non lasciarti ingannare! Diamo il massimo e supereremo il livello 2! Tra esplosioni e musichette, questo ciocco non scherza affatto! È arrivato il momento di stracciare il suo ultimo record! Ok! Vediamo quale patetico personaggio mi tocca impersonare! Babeo? Babea? Il più babeo dei babei? Squatboss! Volentieri! E devo anche distruggere i bottom barbosi! Questo gioco è più male di prevista! Guardate, è un nuovo giocatore! Secondo voi chi sarà? Ora preparatevi a essere annientati, bottom barbosi! Qualcosa non quadra! Squatboss c'è solo dal livello 3! Tutti a tavola, bambini! La casa offre un primo di sconfitta digitale con un contorno di salsa di perdenti! Carate in arrivo! Grazie, Jeff! Oh, annientata da uno stupido mucchietto di carone! Grazie, è tutto ok! Per adesso? Mi rimangono solo due vite! Ma come sconfiggiamo queste bombe arancioni? Seguendo i consigli del cuoco! Si cucina, ragazze! Stupido gioco del paleolitico! Ora passiamo di livello! Ulti bonus! Sì! Oui! No! Non posso farmi battere da un gioco a 16 bit per poppanti! E adesso che succede? Non è che ora il gioco vuole battere noi! Correte! Più grande, più forte, più squattante! A can pixel bottom sta per esplodere una pixel bomba! Lui pensa di essere ancora nel gioco! Questo significa... Fammi indovinare! Che distruggerà il campeggio? Ehi! Piantatela a tiffare il paccano con video giochi! Oh, scusa! Continua pure a fare quello che sta fiffacento! Bene, genio dei videogiochi! Visto che sei l'esperto, come si batte squat, boss? Ecco, a proposito, era tanta così da riuscire a capirlo! Ma guarda se un Bigfoot non pone altro... Wow, sono un programmatore più bravo di quanto pensassi! Dove sei finito, biancalletto? Vieni fuori! Ehi, sono qui, Bigfoot! C'è qualcuno che sta per prenderle da squat, boss! Pausa pranzo! Non dimenticare che anche le verdure sono importanti! E vai! Per dei punti alla grande ormai è fatta! Ora passamene una bella puzzosa, Squirt! Pronti? Partenza? Invea! Grande! Ma come? Tutto qua? Carote all'attacco! Abbiamo da carote, via! Oh no! Grazie! Illusi! Il gioco non è ancora finito, ok? Ci siamo quasi, però se perdiamo un'altra vita è game over! Potete scappare, ma non potete nascondervi! Squadboss sta distruggendo tutto il caffeggio! Ecco, non esattamente. Gli manca ancora la casetta di Sawyer. Ovvio il generatore! Dobbiamo togliere la corrente al videogioco! Potrebbe funzionare! Lo faremo distruggendo la casetta di Sawyer! Qualcosa mi dice che dovrò distire il mio futon! Ho una missione da compiere! Copritemi ragazzi! Cosa? Non abbiamo più carote! Oh, cavoli! Non preoccupatevi, mi rimangono ancora due viste! Uffa! Nei sono un'altra! Ok, adesso faccio sul serio! Oh oh! Bye bye! Peggy! Oh no! Pubblicamente stracciato e umiliato! Forse! Tranne per un piccolo particolare! McGee, abbiamo dei punti extra! Oh no! Non è possibile! Vita bonus, bello! Vai e McGee ritorna in campo! Nuova mossa, battiscopa! Avanti, indietro, avanti, avanti! Sinistra, sinistra, calcio, calcio, pugno, pugno! Sta per sbloccare una supercombo! Gira due volte! Quotere pixel bottom! Alle supermosti adesso! Super capriola! Troppo prevedibile! Non così in fretta, me schiappa! Duono squat! Bene, ho l'impressione che il mio impianto elettrico non passerà alla prossima espressione! Perché l'ha mai passata? Sei stato umiliato! Alla grande! Sembra che qualcuno abbia fatto un nuovo record ben fatto, cappeggiatori! Niente male, McGee, ma ti avrei battuto se avessi giocato anch'io! Devo lo pixel bottom! Che cosa ne dite di un gioco vero? Quanto vuoi, vecchie inutile! Doom Game Over! ChariИ! Ho l'ho detto! Grazie a tutti